mi fa questo perchè c'ho moddato da happy mod si oppure ragazzi installate stumble guys e brawl stars mi raccomando lui è scp master io ho federigato mandateci l'amicizia che ve l'accetto facciamo così se arriviamo a 5 like per questo video vi farò vedere il mio account di stumble guys ok ragazzi bello questo coltello quindi dovete lasciare like e vi faremo vedere l'account più pazzo del mondo abbiamo shoppato oggi potete comprare le armi mi raccomando alcune pure schiena mi sa che noi avremo la vostra età abbiamo soldi infiniti come vedete noi siamo ancora bambini piccoli e quindi non potremo fargli della faccia allora che arma potete shoppare? lui può shoppare tutto guarda c'è un botto di gioco